Una volta ottenuta la somma potremo per esempio allineare i tre canali colore che potrebbero risultare leggermente disallineati, infatti qua vediamo per esempio in questa stella che il rosso è disallineato rispetto agli altri due canali e anche qui probabilmente il blu e il verde non sono allineati correttamente. Quindi per fare questo, per esempio da digital photo, separiamo prima di tutto i canali, quindi diremo per esempio che si chiama M27 rosso, M27 verde e M27 blu e iris a questo punto separa i nostri tre canali. Una volta separati i tre canali possiamo andare a eseguire attraverso questo comando un allineamento manuale di questi tre canali. Per esempio proviamo a spostare il rosso di un pochino più a destra, eccolo, lo stiamo centrando un attimino meglio, un pochino più in alto e adesso vediamo che il rosso è centrato. Vediamo invece che cosa è successo al blu, magari cercando di allineare questa stella, no, decisamente troppo, 0.5. Riproviamo adesso, ecco, sembra che forse così il blu, proviamo a vedere, sembrerebbe più centrato. Ecco, a questo punto noi abbiamo eseguito un primo allineamento manuale dei tre canali colore. Bene, dopo aver eseguito l'operazione di allineamento possiamo salvare l'immagine, ecco in questo caso adesso vediamo come confrontare la prima immagine con i canali disallineati, con la seconda in cui è stato effettuato un allineamento manuale. Andiamo a vedere però anche ai bordi come si comporta l'immagine, qua l'allineamento c'è ma è un po' meno preciso, ecco, benissimo. Per allineare i tre canali però potremmo anche provare invece a sfruttare quello che è lo strumento di Iris per allineare immagini stellari, ecco. In questo caso però dovremmo rinominare i canali come se si trattasse di una sequenza, per esempio apriamo il nostro canale verde che useremo come canale di riferimento per allineare gli altri due, lo chiamiamo col 1, il nostro canale rosso lo chiameremo col 2 e infine il canale blu lo andiamo a rinominare come col 3. A questo punto diremo ad Iris di allineare questa sequenza di colori come se fosse una normale sequenza stellare utilizzando magari questo metodo global matching per esempio, potrebbe andare bene, oppure io posso anche consigliare come metodo per esempio quello di utilizzare tre quadrati dell'immagine, a me sembra quello che ottenga forse i risultati migliori dal punto di vista dell'elemento dell'immagine insieme al global matching con sputtato l'opzione di cubic. Bene, adesso possiamo vedere la differenza tra, questa è l'immagine non allineata con i colori, abbiamo chiamato invece col x l'immagine con i colori allineati con il metodo dei tre quadrati, e vedete che a questo punto l'immagine risulta con i colori decisamente più allineati rispetto a prima e questa immagine la possiamo salvare come M27 allineata. Bene, vediamo ora il confronto tra queste tre immagini, quelle in cui i colori non sono allineati, questi colori li abbiamo allineati invece con il metodo dei tre quadrati e qua l'allineamento è avvenuto invece utilizzando global matching. Come vedete non ci sono grandissime differenze tra questi due metodi di allineamento. Andiamo a vedere ai bordi però quale dei due si rileva alla fine migliore. Ecco, io direi che in questo caso, per esempio, guardando questa stella, il terzo, cioè quello di global matching, in realtà si è dimostrato effettivamente il metodo più efficace per allineare anche i nostri colori che compongono l'immagine. L'immagine comunque ha dei bordi che, come vedete, sono più scuri, questo proprio perché una parte della sequenza delle immagini presentava questi bordi neri dovuti al slittamento per essere allineate. Ora, quello che possiamo fare è croppare queste immagini al fine di togliere questi bordi scuri. Per fare questo dovremmo dire però a Iris quali sono le coordinate che noi vogliamo utilizzare per croppare l'immagine. Per croppare l'immagine possiamo usare uno specifico comando di Iris, che è questo, che però ci chiede esattamente quale sarà il valore del pixel più a sinistra, cioè x1, quale sarà il valore del pixel più in basso, y1, il valore del pixel più a destra, x2, e il valore del pixel più in alto, y2, osservano quali saranno le coordinate che noi vogliamo croppare. Ora, andiamo a vedere qual è il valore di y1, troviamo un valore di 5 qua dall'altra parte, forse va un po' peggio, sì, y6, e diciamo che per esempio y gli daremo un valore di 7. Poi andiamo a cercare il valore più a sinistra, cioè il valore di x1, troviamo 7 e anche in alto, 7 va bene, quindi diremo che è 7 anche x1. Poi andiamo a cercare il valore di x2, quello più a destra, qua troviamo 3888, e qua leggiamo i valori a x e y, ed ecco 3886, quindi gli diremo 3885. Poi andiamo a cercare qual è il pixel da croppare in alto, qual è il valore più in alto, ecco, quindi 2572, ecco qua il valore di y, e proviamo da questa parte, forse qua va un po' peggio, sì, 2569, quindi gli diremo 2569. Ora, non facciamo nient'altro che usare il solito copia e incolla, e andiamo a eseguire la nostra riga di comando. Benissimo, quello che si può vedere è che a questo punto l'immagine non presenta più i bordi neri, poiché è stata ritagliata, ossia croppata per eliminarli. Le funzioni di iris che abbiamo appena visto, possono essere applicate però anche nelle fasi precedenti dell'immagine, per esempio noi abbiamo visto fare l'allineamento con immagini a colori, ecco, chiaramente chi ha fatto per esempio riprese CCD potrebbe avere invece immagini dei tre colori separati. Può venire comunque utile, a mio avviso, anche quando si fanno immagini a colori, con sensori, per esempio, di refer digitali, eseguire un ulteriore allineamento delle immagini sui singoli canali colori. In questo caso che cosa si fa? Eravamo rimasti al nostro primo allineamento, quindi le immagini si chiameranno M27A, la nostra sequenza di 20 immagini, quelle sopravvissute, ebbene, andiamo a dire col comando dal menu digital photo di separarci questa sequenza, cioè M27A, nei suoi colori fondamentali. Il numero di immagini che compongono la sequenza e 20, e ora gli diremo ad Iris di separare questa sequenza nei suoi tre colori. A questo punto eseguiremo nuovamente un allineamento, però fatto sui singoli canali colore. Andiamo a prendere Stella Registration, gli diciamo che, per esempio, il canale R, lo vogliamo chiamare RX alla fine, sono 20 immagini e che vogliamo utilizzare il metodo, in questo caso, Global Matching Cubic. Bene, Iris comincia a lavorare su questo colore e andrà a cercare le stelle di riferimento nella prima immagine, per poi allineare complessivamente l'intera sequenza di immagini. Ovviamente poi bisognerà eseguire lo stesso allineamento per ognuno singolo canale, e quindi G, G, X e così via. Uno dei tre canali, anche qua, andremo ad agire separatamente e andremo a sommarli, in questo caso, col solito sigma clipping, e andremo a sommare, per esempio, il canale allineato, logicamente, R, X, 20 sono le immagini, e eseguiremo la somma con sigma clipping. Bene, al termine della somma, poi salveremo il nostro canale, in questo caso lo chiameremo rosso 1. Ok. Lo stesso per il canale verde e lo stesso anche per il canale blu. Ecco, a questo punto possiamo usare, per esempio, la funzione di Iris per ricomporre la nostra immagine a colori. Ed ecco, di nuovo, l'immagine è stata ricomposta a colori e possiamo poi decidere se procedere a un allineamento o meno dei colori, oppure se i colori sono già allineati. Per quanto riguarda l'allineamento, come abbiamo visto, volendo possiamo ridenominare i nostri singoli canali colore e andare ad allineare con un metodo automatico per poi ottenere alla fine un'immagine che allinea anche automaticamente i tre canali colore. Precedentemente abbiamo visto come si croppa una immagine, come può essere ritagliata una singola immagine. Però potrebbe invece venire utile in alcune situazioni, anche quando si lavora, per esempio, sulle immagini separate per singoli colori, andare a croppare le immagini dopo averle allineate. Questo perché ci permetterà, in questo caso, di applicare anche delle normalizzazioni di offset o del guadagno ai singoli canali colori. Normalizzazioni che non sono possibili se le immagini presentano dei bordi che sono neri, come accade nelle immagini allineate ma non croppate. Per eseguire questa funzione dovremmo anche qua utilizzare una riga di comando. Vediamo qual è la sintassi. Il comando window 2 in sono le sequenze di immagini in ingresso se un colore per esempio è rx che è il colore che abbiamo allineato, rcrop potrebbe essere la denominazione in uscita e qua ci chiede di inserire le coordinate spaziali per ritagliare le immagini. In questo caso io utilizzo quelle che abbiamo già trovato se no bisogna fare un lento lavoro per visionare immagine per immagine al fine di evitare che qualcuna di esse alla fine presenta dei bordi neri. Infine, il numero di immagini che compongono la sequenza che sono 20 nel nostro caso. Ecco qua, di nuovo, CTRL-C andiamo a applicare la riga di comando e inviamo e quindi Iris comincia a ritagliare tutta l'intera sequenza di immagini. Questo metodo può risultare utile per lavorare sui singoli canali colore e anche per esaltare o non esaltare al contrario un colore piuttosto che un altro. Per fare questo è possibile utilizzare le funzioni sia di normalizzazione dell'offset che del guadagno sia anche un'operazione matematica che è quella di applicare un coefficiente a un singolo canale. Per esempio abbiamo qua croppato il nostro canale rosso allineato quindi R-Crop gli applicheremo un coefficiente di 1.2 e lo chiameremo R-Mult la sequenza risultante sono 20 le immagini logicamente a questo punto andrà a applicare Iris questo fattore di moltiplicazione a tutte le immagini attenzione però che alla fine tutte e tre i canali dovranno avere lo stesso valore di fondo cielo quindi per fare questo il nostro per esempio la nostra sequenza denominata R-Mult che abbiamo applicato il coefficiente di moltiplicazione dovremo riportare il valore di fondo cielo a 90 lo chiameremo R-Norm Lavorare sui singoli canali di colore è sicuramente più difficile però vi assicuro che si ottengono anche dei risultati migliori queste che abbiamo elencato sono le varie opzioni che ci offre un software come Iris per calibrare sommare allineare le nostre immagini e alla fine ottenere un primo risultato finale prima di passare poi all'elaborazione vera e propria con filtri e con altre tecniche